A poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Entro il 15 maggio i cittadini fanesi potranno richiedere il risarcimento dei danni provocati dal maltempo Stefano Guzzi si candida alle regionali di maggio con una lista civica che coinvolge tutte le province Domani il debutto dell'Elisir d'Amore al Teatro della Fortuna Allestita nel foyer una mostra realizzata dall'Apolloni con foto scattate durante le prove dell'opera Un cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia Lo avete sentito dai titoli I cittadini che hanno subito danni a causa del maltempo dei giorni scorsi Entro domenica prossima dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per l'eventuale risarcimento Continua la conta dei danni dopo il maltempo Che con forti raffiche di vento si è abbattuto la scorsa settimana sulla città della Fortuna e non solo Come richiesto dal Dipartimento regionale di protezione civile I privati cittadini dovranno segnalare al Comune di Fano i danni subiti all'attività economiche produttive Con esclusione di quelle agricole e dalle proprietà private Entro e non oltre il 13 marzo alle ore 12 per le richieste consegnate direttamente al protocollo del Comune E invece per quelle inviate tramite PEC o fax entro e non oltre il 15 marzo alle ore 24 Le segnalazioni dei danni indirezzate al sindaco Massimo Seri dovranno essere presentate direttamente al protocollo comunale In via San Francesco fino alle 12 di venerdì 13 marzo Con orari per lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 13 Mentre il martedì e il giovedì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 Oppure anche tramite posta elettronica certificata alla PEC all'indirizzo comune.fano.it Il fax invece è al numero 0721 88 73 68 Questo entro le ore 24 di domenica 15 marzo Le segnalazioni dovranno riportare tutti i dati anagrafici del richiedente Compreso il recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica Inoltre la descrizione, quantificazione e localizzazione del danno subito E l'eventuale documentazione fotografica Si precisa che non dovranno essere ripresentate o ripetute le segnalazioni di danni Relativa agli eventi di novembre-dicembre 2013 e maggio 2014 Invece per quanto riguarda i danni già segnalati Con la precedente ricognizione effettuata per lo scorso mese Dovrà essere indicata la sola stima relativa all'eventuale aggravamento Rispetto a quanto già comunicato Intanto il Consiglio Comunale riunitosi ieri ha approvato all'unanimità due ordini del giorno Il primo relativo al ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della circolazione stradale L'altro sulla messa in sicurezza invece del rio Crinaccio nella zona di Ponte Sasso Che durante le ultime mareggiate aveva creato disagi Sia sul lungomare che nelle zone residenziali circostanti E oltre al maltempo anche la Rincicotti Orciani e la ditta Profiglas Sono stati tra gli argomenti discussi ieri in Consiglio Comunale Unanimità di intenti in Consiglio Comunale anche per la vicenda legata alla Rincicotti Orciani Dove il sindaco Massimo Seri nel rispondere all'interrogazione presentata dal consigliere di Progetto Fanno Alberto Santorelli A cui hanno fatto seguito anche due interrogazioni orali del Movimento 5 Stelle e di Noi Città Ha spiegato che è stata avviata una verifica normativa per valutare la possibilità di recupero dell'azienda e dei lavoratori Come affermato poi dal Presidente Renato Claudio Minardi Da parte dell'amministrazione comunale c'è tutto l'impegno e la determinazione nel trovare una soluzione Che possa essere in grado di coinvolgere anche altri comuni del comprensorio Affinché affidino i servizi all'azienda per poter così recuperare il fatturato La proposta è stata respinta dalla maggioranza perché i consiglieri comunali hanno tutte le possibilità E tutti gli strumenti per poter verificare con l'accesso agli atti ogni atto, ogni documento, ogni delibera Ogni determinazione che è stata adottata o fatta da parte sia della Giunta che del Consiglio Che anche da parte dei dirigenti del Comune di Fanno La discussione si è accesa poi sulla richiesta avanzata dai grillini di istituire una commissione speciale di indagine Che valuti le questioni legate alla ditta profiglas e all'intera zona di Bellocchi in cui essa opera Richiesta che ha trovato subito contrari il Partito Democratico, noi città e noi giovani Sinistra Unita invece si è assenuto Il Sindaco Seri che è intervenuto per ristabilire ordine tra le file dei consiglieri Ha detto che richiedere una commissione di inchiesta sta a significare un clima di sospetto che il primo cittadino respinge Il tema ambientale che viene posto anche da parte dei comitati e dei residenti su quello massimo rigore Perché sull'ambiente non si scherza, la salute è un bene di tutti e ovviamente tutti vogliamo che la salute venga tutelata nel migliore dei modi Per cui massima trasparenza ma la commissione di indagine sinceramente l'abbiamo vista come una cosa assolutamente fuori luogo Non d'accordo con l'atteggiamento tenuto dai consiglieri e con la decisione di rispingere la richiesta della commissione Hanno deciso di abbandonare l'aula e il movimento a 5 stelle, Dan e i consiglieri di progetto Fano Continuiamo con la politica, le elezioni regionali si avvicinano La Lega ha deciso che correrà da sola con Luca Rodolfo Paolini E poi ancora indecisi sia Forza Italia che il centrodestra con Marche 2020 Ma che sabato prossimo probabilmente presenterà il candidato e il programma Il centrosinistra invece ha già individuato il suo attraverso le primarie che è l'ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli Mentre l'ex primo cittadino di Fano Stefano Guzzi è il candidato delle liste civiche Sentiamo quali sono i suoi progetti e le possibili alleanze È un possibile candidato governatore con una lista civica marchegiana presente in tutte le province Dopo essere stato il sindaco della città di Fano per 10 anni e attuale consigliere comunale Stefano Guzzi scende nuovamente in campo e si rimette in gioco per le elezioni regionali del prossimo maggio Io penso innanzitutto che quando un ente pubblico, in questo caso una regione, per troppi anni è governata dallo stesso partito Tende a diventare un luogo dove si discute poco, ci si confronta poco Il partito egemone, in questo caso il partito democratico, diventa supponente, diventa un partito arrogante Infrange molto spesso le regole stesse della democrazia e della partecipazione Secondo Guzzi dunque un ricambio può essere solo che positivo Se guardiamo la sanità, proseguito in diverse parti della regione è pessima Quindi un governo che non ha dato le risposte necessarie che i cittadini meritavano Poi ha portato l'esempio del lungomare I porti sono intasati, ha detto, e non navigabili La pesca è in difficoltà, così come la cantieristica e il turismo E ha proseguito Non abbiamo difeso a sufficienza le coste Ogni volta che fa una mareggiata butta all'aria tutto il lungomare Abbiamo le colline più belle d'Italia Lo abbiamo riempito di fotovoltaico a terra che ha deturpato completamente il paesaggio Ecco, se noi pensiamo che il partito democratico che ha fatto tutte queste cose Possa e debba continuare a governare anche in futuro Vuol dire che non abbiamo capito un gran che Quindi c'è un progetto concreto Le liste civiche delle Marche sono diverse Sono presenti un po' in tutte le realtà territoriali Esprimono anche amministratori come il sindaco di Iesi, il sindaco di Urbino In passato anche il sindaco di Fermo, che è comunque un componente del civismo regionale Ci sono voluto mettere insieme, hanno cominciato a dialogare Per dare uno stimolo proprio a tutte le altre forze Che possono insieme creare un'alternativa vera Io non ho nessuna presunzione Intanto facciamo da stimolo a tutte le altre forze Che le vedo un po' dormienti in questa fase dell'opposizione E soprattutto vogliamo capire se ci sono le condizioni di creare un'alternativa vera Questo è il nostro obiettivo e ci stiamo lavorando fino in fondo C'è dunque la possibilità di una doppia candidatura in famiglia Ma dipenderà dal progetto che si vorrà mettere in campo, ha riferito Guzzi Se sarà il candidato presidente della regione di un'ampia coalizione Della quale farà parte anche Forza Italia Come l'ex sindaco auspica Elisabetta Foschi rifletterà e deciderà di conseguenza Se invece non sarò io candidato Perché comunque tutta l'alleanza verterà su un'altra persona E' certo che se candiderà e secondo me se la caverà anche molto bene Ed ora una breve di cronaca Un incidente accaduto questa mattina nell'incrocio tra Viale Primo Maggio e Via Annibalcaro All'altezza dell'ex chief Coinvolti nello scontro un'auto e una moto E ad avere la peggio è stato il centauro rimasto ferito Trasportato dal 118 al pronto soccorso del Santa Croce L'uomo non dovrebbe essere in gravi condizioni Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge E cambiamo argomento in occasione del trentesimo anniversario Del gemellaggio con la città di Rastat Il comune di Fano ha promosso una Fano Card Una tessera sconti per i residenti della città tedesca Valida negli esercizi commerciali fanesi che aderiscono all'iniziativa L'amministrazione comunale ha stretto un nuovo legame con Rastat Città con cui è gemellata fin dal 1985 E per festeggiare il trentesimo anniversario dal 13 al 16 maggio Verranno celebrati tre giorni di iniziative per i visitatori rastattesi Che si reccheranno a Fano ma non solo Infatti è stata ideata la Fano Card Il buono che prevede uno sconto turistico valido per tutto il 2015 È una sorta di Fidelity Card che prevede una scontistica del 10% In tutte le attività che aderiranno all'iniziativa promozionale Per il momento abbiamo un centinaio di adesioni Che riguardano soprattutto alberghi, campeggi, stabilimenti balneari E l'auspicio è che anche tutti gli esercenti del centro e del territorio Negozi, parrucchiere, qualsiasi attività aderisca all'iniziativa Il comune tedesco si occuperà di distribuire la card nei negozi Nei ristoranti, nei musei e negli hotel Gli adesioni dovranno essere comunicate entro il 24 marzo prossimo E ogni esercizio commerciale della provincia di Pesero e Urbino Dovrà rivolgersi all'associazione di categoria di riferimento L'iniziativa è stata presentata ieri mattina in Sala della Concordia Dal sindaco Massimo Seri Dal presidente di Assoturismo Marche E da Caterina Delbianco L'assessore allo sport il mese scorso ha partecipato a un workshop a Rassat Con un gruppo di operatori fanesi Una visita in cui è nata l'idea della nuova tessera E che ha riscosso una grande attenzione da parte dei mass media tedeschi Ho cercato dei contatti con le associazioni sportive Io stessa quando ero piccola con la squadra di pallavolo Ho viaggiato nelle città gemellate Sono esperienze che rimangono nel cuore Mi piacerebbe portare i nostri gruppi giovani fanesi in giro per l'Europa Questo è un impegno che ci prendiamo come amministrazione C'è stato anche un gemellaggio della polizia municipale? Sì, come comune erano presenti anche le comandante Giorgio Foligno E la vice comandante Annarita Montagna Che così come avevano già fatto a St. Albans la città gemellata in Inghilterra Hanno provato un coinvolgimento proprio dell'organo della polizia municipale Questo nuovo progetto pilota il primo cittadino vorrebbe replicarlo anche con altre città gemellate A partire da St. Albans Beh sì, non dobbiamo dimenticare che è una nostra città turistica Quindi dobbiamo pensare anche iniziative nuove per attrarre turisti nella nostra città Tutto questo l'abbiamo fatto con risorse minime In alcuni casi zero A dimostrazione che anche in momenti difficili quando si è creativi E soprattutto si riesce a collaborare tra tutti i soggetti interessati Quindi amministrazione, associazioni di categoria e soggetti economici Si ottengono buoni risultati Per cui sono molto contento anche perché lo stimolo è partito dal sindaco Giustizia, lavoro e politica estera sono i temi su cui si confronteranno i parlamentari europei Laura Agea e Fabio Massimo Castaldo Che incontreranno la cittadinanza fanese venerdì 13 marzo All'incontro che si terrà alle 17.30 nella sala del Consiglio Comunale di Fano Presenzeranno anche il candidato presidente delle Marche Gianni Maggi E la candidata consigliera fanese Rossella Accoto Lucia Annibali, l'avvocatessa sfereggiata con l'acido a Pesaro da due sicari ingaggiati dal suo ex Ha insegnato oggi agli studenti dell'Università Politecnica delle Marche Che cosa ha imparato lei dalla vita Ospite d'onore all'inaugurazione dell'anno accademico Lucia, elegantissima con i segni dell'ultima operazione sul viso Ha svolto un breve intervento in cui ha esortato gli studenti ad essere risorsa per gli altri Tra le righe poi ha accennato anche sulla sua vicenda Siamo noi artefici del nostro destino, ha detto l'Annibali Anche quando lasciamo che gli altri decidano per noi La forza di volontà può tutto Cambiamo argomento L'Avis di Fano quest'anno spegne 65 candeline Per festeggiarli ha organizzato diverse iniziative per promuovere e incentivare la donazione di sangue È un anno importante per l'Avis Fanese perché ricorre il 65esimo anno di fondazione Per l'occasione sono in programma diversi progetti Con lo scopo di diffondere e far meglio comprendere alla cittadinanza L'importanza della donazione e al tempo stesso mantenere sempre viva l'esigenza del sangue Il fabbisogno infatti resta costante per l'elevarsi dell'età media della popolazione Per gli interventi programmati e per i progressi della medicina Tra le iniziative quest'anno rientra la manutenzione del monumento nella piazzetta intestata ai donatori di sangue Per il 14 giugno Poi giorno in cui si festeggia la giornata mondiale dei donatori Verrà realizzata una catena umana con le società sportive Che dalla sede a Visina in via San Francesco si prolungherà fino a piazza 20 settembre Altri dati importanti rilevati dal bilancio sociale 2014 Sono le quasi 4.600 donazioni, gli oltre 2.500 soci e i 329 nuovi donatori Il secondo bilancio sociale per noi è un fatto molto importante Perché rende trasparente per la città, per tutta la collettività, le attività che abbiamo messo in campo nel 2014 Noi crediamo in questo fatto del bene e della salute Tant'è che per il 65esimo abbiamo messo in campo una serie di iniziative Tra cui la prima è proprio quella che annunciamo oggi È una ricetta di cuore È un'iniziativa pseudo letteraria Cioè devono scrivere un aneddoto, un racconto del perché di questa ricetta Poi collegano la ricetta Una commissione sceglierà la ricetta migliore È collegata all'Expo e noi non potevamo essere da meno perché l'Avis nazionale già aderisce all'Expo E poi ci sono in omaggio degli biglietti di ingresso all'Expo E anche il biglietto del treno di andata e ritorno Fano Milano L'associazione di volontariato inoltre continua a prendersi cura non solo di chi riceve il sangue Ma anche del donatore stesso che viene sempre più tutelato Grazie ad una nuova collaborazione con l'Asur Abbiamo fatto questo accordo in cui per gli uomini oltre i 50 anni Possono chiedere gli esami per il tumore al colon Esami preventivi E per le donne dai 25 anni in su Le donatrici possono rivolgersi all'Asur Chiedendo di essere sottoposta al pap test E all'esame al seno Alla mammografia per evitare il tumore al seno Perché tutelando la salute del donatore Si tutela la famiglia e la sicurezza Proseguono anche le iniziative legate allo sport Quest'anno sono state contattate 35 società e sensibilizzati circa 1000 atleti Di questi più di 400 sono diventati donatori Inoltre continuano le collaborazioni con le scuole del territorio di ogni ordine e grado Quest'anno abbiamo coinvolto quasi 1000 studenti E la novità è stata che oltre ad aver avviato un confronto con tutti gli istituti superiori Siamo entrati anche negli istituti secondari di primo grado Quindi con ragazzi di 12-13 anni Molto interessati Molto partecipi E che soprattutto si sono fatti portatori anche di questionari Per scegliere i genitori Per conoscere qual è la loro visione rispetto all'Avis Per conoscere se sono disponibili ad incontri loro stessi Quindi è stato un momento anche molto interessante e molto costruttivo Ed ora torniamo a parlare del GAF La compagnia dialettale Che dopo 5 commedie saluta il suo pubblico E si congeda con tante critiche positive Il premio ricevuto dal comune per i 30 anni della compagnia Putevagia anche a peggio Non ha deluso le aspettative La conferma arriva dalla necessità Che il GAF ha avuto per soddisfare le tante richieste Di aggiungere una quinta replica Alla già ricco cartellone Intanto il guitto comunica che lo spettacolo Finché se scherza in programma al Politeam Per il 16, 17 e 18 marzo È stato annullato In seguito alla delicata situazione Che sta vivendo una componente della compagnia Conto alla rovescia invece per l'Elisir d'Amore In scena al Teatro della Fortuna Domani e sabato Per l'occasione nel foyer È stata allestita una mostra Con le fotografie scattate Dagli alunni del Liceo Artistico a Polloni Durante queste settimane di allestimento E prove dell'opera L'opera di Gaetano Donizetti si appresta a tornare al pubblico fanise Ieri sera il CAS ha incontrato i 59 studenti dell'Istituto Comprensivo Padalino Che li hanno aiutati a mettere in scena il flash mob lirico Organizzato nel giorno di San Valentino all'ipermercato Ocean di Fano La compagnia di giovani professionisti Ha così concluso i preparativi in teatro Per completare i due atti Del capolavoro del Mezzo Sorriso A documentare l'evolversi delle prove Invece sono stati gli studenti Del Polo Scolastico 3 Impegnati nel progetto Dorothy Che per il secondo anno consecutivo Vede coinvolti gli studenti fanesi Gli allievi hanno fotografato le attività Extra spettacolo Come gli incontri degli artisti con il pubblico Il backstage degli allestimenti dell'opera E altre iniziative Oltre alla documentazione fotografica Infatti sono stati attivati stage per due studenti Uno nel reparto Sartoria E l'altro in ufficio produzione Referente dell'iniziativa anche quest'anno Il professor Paolo Tosti Che coordina il gruppo di allievi partecipanti al progetto Quest'anno i ragazzi sono coinvolti 16 ragazzi Sono ragazzi che si occupano principalmente Di documentare appunto fotograficamente Ma poi hanno collaborato anche all'interno della Sartoria All'interno dell'ufficio stampa E una collaborazione diciamo a 360 gradi Quindi un'educazione particolare Diversa proprio sul campo Sì un'educazione diversa Ma fondamentale secondo me Perché in realtà Lo scopo non è produrre un'immagine Come vedete O produrre comunque un qualcosa che sia Appunto relativo alla loro esperienza Ma è fare esperienza Quindi la cosa più importante è far crescere i ragazzi E abituarsi a capire che la cultura È comunque fondamentale per la crescita degli alunni I migliori scatti che hanno catturato i momenti più salienti Dell'allestimento e delle prove dell'opera Sono in mostra nel foyer del Teatro della Fortuna E con questo servizio chiudiamo qui il nostro telegiornale Fra poco trasmetteremo una nuova puntata di Guarda chi c'è E poi uno speciale televisivo sulla mostra mercato del tartufo bianchetto di Fossombrone Grazie per la vostra attenzione Arrivederci a domani